Sono tanti anni che cerchiamo di promuovere il tema della sostenibilità negli investimenti. Qui in Italia direi in maniera più intensa dal 2010, all'inizio magari un po' poco ascoltati, mentre oggi ci fa piacere, direi forse dal 2016, ci fa piacere vedere che il tema prende sempre più piede, sempre più nelle preferenze degli investitori e nella testa di chi promuove i prodotti di risparmio gestito. Noi abbiamo effettivamente una gamma molto ampia, questo ci caratterizza, non parliamo solo di prodotti azionari, ma anche obbligazionari, anche bilanciati con approcci di investimento diverso e abbiamo un punto forte, un punto di forza nell'azionario tematico ambientale con un partner che si chiama Impact Asset Management che è specializzato e da molti anni rappresenta un'eccellenza nel settore. C'è stato sicuramente un momento di svolta con la conferenza delle parti di Parigi. La conferenza delle parti di Parigi per la prima volta ha buccato un po' lo schermo in termini di visibilità di alcuni temi che stanno diventando, ahimè anche tristemente e dolorosamente noti, un po' a tutti gli investitori, perché i disastri ambientali si stanno moltiplicando con una certa frequenza. Questo rende la questione della sostenibilità sul versante ambientale sempre più visibile e comunicabile anche all'investitore finale. Secondo me questo ha certamente fatto un po' la differenza, tant'è che noi vediamo che sul mondo più della distribuzione, più retail, l'azionario tematico dei diversi comparti dell'investimento sostenibile è quello che ha maggiore successo.